La Fiorentina ospita il Bologna alle ore 15 allo Stato Franchi di Firenze per la 32esima giornata di Serie A Con Montella in panchina, i Viola cercano la vittoria casalinga in campionato che manca da quasi quattro mesi, dal successo con l'Epoli del 16 dicembre scorso Nell'ultimo impegno in casa, la Fiorentina ha perso contro il Frosignone. Il Bologna, invece, ha collezionato quattro vittorie nelle ultime cinque giornate uscendo dalla zona retrocessione e battendo Chievo, Sassone, Torino e Cagliari Dove vedere Fiorentina-Bologna? La partita tra Fiorentina e Bologna è in programma alle ore 15 allo Stato Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253 La diretta streaming, invece, sarà disponibile sulla piattaforma scubo.Provabili formazioni, Montella avrebbe intenzione di schierare la Fiorentina con il modulo 3-5-0, con la coppia da pacco formata da Muriel e Signori I tre in difesa dovrebbero essere Milenkovic, Pezzella e Vitor Hugo. Milanovic dovrebbe conformare il 4-2-3-1 con palazio più avanzato il Sansone, Soriano e Orsolini sulla tre quarti In mediana, ci dovrebbero essere più gareggi e mai In mediana, ci dovrebbero essere più gareggi e mai